Per quanto riguarda le forme da osservare per l'esame del Pasta E' imputato i delitti connessi, Presidente Quindi senza l'articolo 210, siete tutti d'accordo? Sì E allora, le sue generalità Emanuele Pasta è nato a Palermo 10.10.75 Io la devo avvisare che senza l'articolo 210 del codice di procedura penale Lei ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia Ha avvocato? Sì, sì, è qua presente Avvocato Monica Genovese Vediamo l'atto verbale Buongiorno, Presidente, sono presente La devo anche avvisare che senza l'esame della stessa disposizione Lei ha la facoltà di astenersi dal deporre Intendo rispondere? Sì, intendo rispondere Prego, Pubblico Ministero Allora, signor Pasta, buongiorno Buongiorno Cominciamo col farle qualche domanda circa la sua appartenenza all'organizzazione mafiosa con Sanostra E quindi comincio col chiederle se lei ne ha fatto parte Sì, ne ho fatto parte a partire dal 2007 in maniera concreta e fattiva Lei è stato formalmente affiliato, combinato, in Cosa Nostra? Sì, tra dicembre 2008 e gennaio 2009 Chi è stato il suo padrino e come si è svolta questa cerimonia di affiliazione? Per quanto riguarda la mia affiliazione è stata fatta Il mio padrino è Bartolo Genova, nipote di Salvatore Genova È stata fatta in una casa di Villa Tasca Ed erano presenti altri soggetti Alcuni sono a piede libero Se le mi autorizzo io faccio i nomi Per quelli a piede libero no? Quindi c'erano presenti Andrea Quattrosi della famiglia di Re Suttana Bartolo Genova E poi altri soggetti appartenenti ad un'altra famiglia che sono a piede libero Se ci specifica chi è Bartolo Genova, che ruolo ha all'interno di Cosa Nostra? Bartolo Genova a partire dopo l'arresto di Salvatore Genova Ha preso la regenza del mandamento di Re Suttana E poi è stato combinato formalmente dall'architetto Giuseppe Liga Che è il capomandamento di San Lorenzo Lo era già al tempo della sua affiliazione l'architetto Liga, capomandamento di... Sì, assolutamente sì Tommaso Natale Ora ci faccia un breve escursus sul suo avvicinamento a Cosa Nostra nel corso della sua vita Quando è cominciato e con quali esponenti mafiosi? Prima di andare avanti vorrei sapere se su queste cose ha già risposto Nel corso di quell'interrogatorio di cui è stato acquisito il verbale Perché altrimenti lo abbiamo acquisito in mente Con qualche precisazione ce la potete fare, tanto sarà breve Vada subito quindi alla precisazione Quindi con quali soggetti ha cominciato ad avere a che fare con Cosa Nostra? Quando ero piccolo mio padre era vicino a Salvatore Biondo Il Lungo di San Lorenzo Detto? Barbazza lo chiamavo Barbazza, Il Lungo, Salvatore Biondo detto Il Lungo E quindi mio padre aveva un'attività, una palestra, l'Antares Ma di fatto era un prestannome della famiglia di San Lorenzo, quindi Salvatore Biondo E all'interno della palestra venivano periodicamente vari soggetti Come ad esempio Calogero Lopiccolo, Sandro Lopiccolo, Enzo Di Maio, Salvatore Biondo, Michelangelo Camarda Vari esponenti di Cosa Nostra che spesso si intrattenevano con mio padre Quindi fin da piccolo sono cresciuto in questo contesto Poi crescendo, poi sono stato sempre vicino alla famiglia Biondino In quanto con Giuseppe Biondino, figlio di Salvatore Biondino C'è un'amicizia fin da quando eravamo piccoli Ho frequentato quella casa fin dai primi anni 90 L'amicizia che è poi continuata nel tempo, fino ai giorni nostri Quindi fino ai giorni dell'arresto di Giuseppe Biondino Che è avvenuto nell'operazione Perseo A quale famiglia mafiosa appartengono il Biondino di cui sta parlando? La famiglia mafiosa di San Lorenzo Lei nel corso del suo avvicinamento a Cosa Nostra Ha curato la titanza di alcuni esponenti mafiosi, essessi chi? Io mi dovevo occupare della latitanza di Salvatore Genova e di Calogirolo Piccolo Avevo provveduto a fare i documenti a Salvatore Genova e a Calogirolo Piccolo Documenti falsi? Documenti falsi, le carte d'identità e le patenti L'arresto di Salvatore Genova e di Calogirolo Piccolo avvenne i primi di gennaio E più precisamente un martedì Ma lo ricordo perché la domenica mattina mi sono vista al Charleston con Salvatore Genova Che lo dovevo portare via per la latitanza E lui mi disse aspettiamo qualche giorno perché Calogiro verrà pure con me Qua ha aspettato quei giorni in più invece poi lo hanno tratti in arresto Come era già a conoscenza di questi arresti? Come che vi incontravate per poi prospettare la cura della valutazione? La gennaio mi diceva che c'erano degli arresti in corso in quanto lui aveva una fonte Non meglio precisata che già gli aveva annunciato questi arresti Solo che la fonte, chiaramente lui non mi ha detto qual era la fonte Cioè il nome, il cognome, la persona Gli dava sempre un arco temporale Tipo di 10 giorni, di 11 giorni E quindi quest'arco temporale era dal... Già dai primi di gennaio lui mi diceva che c'erano in corso Si avrebbero stati degli arresti Tant'è vero che lui Si era, alcuni giorni prima, era andato in ospedale e si era fatto ricoverare Ma era una scusa per potersene andare in caso direttamente dall'ospedale Lui la domenica mattina, quindi due giorni prima dell'arresto Doveva andare via già con me perché la casa era pronta Sia a Petralia sia a Palermo Io avevo provveduto a fare i documenti a Calogiro lo piccolo Però Calogiro lo piccolo inizialmente non la dovevo curare io la latitanza Poi lui mi disse in quella fattispecie Quindi quella domenica mattina presso il Charleston Che Calogiro lo piccolo in quel momento non si fidava di nessuno Si fidava solo di Salvatore Genova E quindi sarebbe venuto pure con noi Infatti la mia riflessione fu E' ancora più complicato Dice la gestione della latitanza E tu dice comunque deve venire con noi Poi il martedì vengono tratti in arresto E questi due appartamenti di cui ha parlato a Via Perez e a Petralia Erano nella sua disponibilità? Allora a Via Perez c'era il contatto a nome mio Era tutta arredata Ma era una cosa di appoggio Perché poi saremmo andati a Petralia In quanto mia suocera I parenti di mia moglie sono di quelle parti E già c'era una casa a Petralia Sottana Già arredata E con la spesa fatta Lei ha detto di essere stato affiliato a gennaio 2008 Tra dicembre 2008 e gennaio 2009 Quali erano gli equilibri mafiosi in quel periodo? Quali reggenti conosceva per le famiglie A lei note? Le famiglie di Parma sono tutti reggenti Che erano in quel momento attivi E poi con alcune famiglie In modo particolare San Lorenzo e Santa Maria di Gesù Diciamo che conoscevo tutto l'organigrammo Perché erano delle famiglie a noi Particolarmente vicine e alleate E chi c'era all'epoca Santa Maria di Gesù? Inocorso come reggente Capofamiglia tale che ha la scibetta Però che non veniva mai appuntamenti In quanto era una persona riservata Sempre inocorso come reggente Poi successivamente Quando inocorso è stato tratto in arresto Il 10 marzo del 2010 Siccome l'hanno messo nella cella accanto a me All'aria mi confidò che Nel periodo precedente Era stata fatta una votazione All'interno della famiglia di Santa Maria di Gesù Ora le chiedo signor Passa Se lei ha conosciuto Nicchi E quali erano i rapporti in quel periodo Tra i Nicchi e lo piccolo In relazione anche alla famiglia Genova Nicchi l'ho conosciuto circa 10 giorni prima del suo arresto Chi era? Ce lo precede Il nome di Battesimo pure Come parlo? Sì, il nome di Battesimo Giovanni Nicchi Noi lo conosco come Gianni Nicchi L'ho conosciuto in una casa del Borgo Vecchio L'appuntamento è avvenuto circa 10 giorni dell'arresto di Nicchi 10 giorni, massimo due settimane L'appuntamento avvenne appunto in questa casa del Borgo Vecchio Dove era presente il reggente della famiglia di Porta Nuova Che non nomino perché è a piede libero La famiglia di San Lorenzo La famiglia in Resuttana rappresentata da Bartolo Genova C'era pure io e altri due soggetti in Resuttana Che sono a piede libero quindi che non nomino E Gianni Nicchi si era accompagnato con una persona Pure della famiglia di Pagliarelli Che è pure a piede libero In questo contesto si parlò In quanto Bartolo Genova che rappresentava Resuttana Non si era schierato né con l'uno né con l'altro Nel senso che con l'architetto Giuseppe Liga Faceva capire che era vicino all'architetto Giuseppe Liga Quindi dal suo schieramento E a Gianni Nicchi tramite il biondino Faceva capire che era pure con Gianni Nicchi In una fattispecie siccome Ino Corso Fece sapere a Gianni Nicchi Che per qualsiasi cosa di Resuttana Poteva parlare direttamente con Ino Corso A quel punto Gianni Nicchi ha detto Io devo parlare direttamente con Resuttana Che è con noi Ho bisogno di parlare Per poter parlare con Resuttana Mi devo rivolgere a Ino Corso Quello quindi fu un appuntamento chiarificatore In cui Bartolo Genova Mostrò e disse a Gianni Nicchi Che era con lui A quel punto Io che ero presente all'appuntamento Feci sapere all'architetto Giuseppe Liga Feci sapere a Ino Corso Andrea Quattrosi Questa situazione Da quel momento Fu fatto subito un appuntamento Con Bartolo Genova E da quel momento Bartolo Genova L'architetto Giuseppe Liga Gli ha detto Da questo momento sei fuori famiglia Ti sei permesso di fare un appuntamento Con Gianni Nicchi Senza farmelo sapere In quanto l'architetto E anche Ino Corso Gli ha detto Per qualsiasi appuntamento Che vi viene portato Non presentatevi all'appuntamento Se non me lo fate sapere Tanto più che l'architetto Negli ultimi periodi Cercavo un nuovo incontro Con Gianni Nicchi E Gianni Nicchi A questo incontro non veniva Loro si erano già visti Però cercavano un nuovo appuntamento Doveva venire pure Ino Corso Quindi dice Mi rifiutano l'appuntamento a me E ci vai tu Da quel momento Genova Bartolo E altri due soggetti Ero Suttana Sono stati messi fuori famiglia E quindi non si dovevano occupare Più di niente In questi incontri Chi rappresentavano L'architetto Liga E Bartolo Genova A livello di reggenze Mi scusi In questi incontri Che ci sono stati Che ha appena menzionato Che ha appena raccontato Tra Bartolo Genova E chi rappresentava L'architetto Liga Cosa rappresentava Il capomandamento Di San Lorenzo Quindi San Lorenzo Tommaso Natale Quello che fu prima Dello piccolo E Ino Corso E Giuseppe Provenzano Giuseppe Provenzano Che era il reggente Di Tommaso Natale Ino Corso Reggente All'epoca era il reggente Di Sant'Emeria di Gesù Erano le persone Di massima fiducia Dell'architetto Giuseppe Liga E quindi L'architetto Giuseppe Liga Diceva sempre In mia assenza Qualsiasi cosa dice Ino Corso O dice Pippo Provenzano E come se la dicessi io E Giovanni Nicchi Chi rappresentava Cosa rappresentava Lui era Diciamo il reggente Della famiglia di Pagliarelli E rappresentava anche Era portavoce Di alcune famiglie Come Porta Nuova Come Corso Calata Fimi Quindi alcune famiglie Dell'altra parte di Palermo Tengo a precisare Che comunque C'era stato un incontro Tra l'architetto Giuseppe Liga E Gianni Nicchi All'inizio del 2009 Dove c'era stata Una chiarificazione Dove addirittura Gianni Nicchi Disse all'architetto Dice per me Il passato è passato Domani per me Può venire anche Il figlio di Lopiccola A aprirsi un'attività da me Io non c'ho niente con nessuno Mettiamo una pietra sopra Che la guerra Non porta a nulla Cerchiamo di venirci in conto Per qualsiasi cosa Se tu hai bisogno Tramite la famiglia di San Lorenzo Mi rintracci E io se ho bisogno di te Tramite Pippo Provenzano In un corso Ti rintracci Poi ci fu quella cosa Di Bartolo Genova Quindi di Resuttana Dove Gianni Nicchi Sotto sotto cercava Di portarsi Resuttana A favore suo E quindi Si è creato questo nuovo astio E ci riusciva con Bartolo Genova Sì Bartolo Genova Di fatto tramite il cognato Che è il figlio Giuseppe Biondino È il cognato di Bartolo Genova Figlio di? Salvatore Ed è fidanzato con la sorella Lei Bartolo Genova Di fatto Bartolo Genova Io capì che Si stava schienando con Gianni Nicchi Siccome invece ero Solidale Con l'architetto Giuseppe Liga Con Ino Corso E con gli altri Diciamo che io All'appuntamento ci andai Perché prima dell'appuntamento L'appuntamento fu portato Da San Lorenzo E l'appuntamento fu portato a me Io prima di informare Bartolo Genova Ho informato Ho fatto Ino Corso Andrea Quattrosi E l'architetto Liga Allora l'architetto Liga Cosa mi fece sapere Tramite Ino Corso E Andrea Quattrosi Vedi Tu porto io All'appuntamento Vedi come si comportano A regola loro Non dovrebbero farcelo sapere Come hai fatto tu a noi Se lui vuole andare all'appuntamento Vedi di andarci pure tu E ti attenti il discorso Infatti si verificò questo E successivamente Non hanno presi questi provvedimenti Tengo a precisare Che nell'appuntamento Che ebbe Gianni L'architetto Liga Con Bartolo Genova In presenza di Ino Corso Ino Corso Gli disse A Bartolo Genova E' l'altro soggetto Il risultano Che è a piede libero Dice questo Tu oggi te ne vai Perché trovi a P Che è una brava persona Perché se erano altri tempi Tu da qua non te ne andavi Perché hai mancato il rispetto All'architetto Liga Ed hai fatto fare Brutta figura pure a me Ce la spieghi bene Questa cosa Lei Ha detto E' rimasto fedele A Giuseppe Liga E quindi a quale linea Rispetto a quella A cui stava tendendo Bartolo Genova Lo scheramento sempre Diciamo L'architetto Liga Rappresentava Lo scheramento De Lopicco E poi era comunque lui Il fautore Della nostra scalata Quindi era una forma Di tradimento Secondo me Secondo anche Andrea Quattrosi Soggetto pure Fedelissimo Melo Piccoli Di cui ha curato la latitanza E quindi Addirittura Andrea Quattrosi Secondo il suo modo di pensare Avrebbe agito in un'altra maniera Al posto dell'architetto Liga Però l'architetto Liga Era contro Certi tipi di soluzioni C'è da dire Che è stata pure La fortuna Che poi subito dopo Arrestano A Gianni Nicchi Che significa questo Quando? Se lo ricorda? Circa 10-15 A dicembre 10 giorni Due settimane Dopo il nostro appuntamento Perché già loro Si erano cercati Tramite San Lorenzo Un nuovo appuntamento Con Gianni Nicchi E a quel punto Si sarebbe creato Qualche assio più forte Un dissidio più forte Certo Perché a quel punto Gianni Nicchi Avrebbe riconosciuto Il re Suttana Sempre Bartolo Genova Mentre poi Da quel momento in poi Ci sarebbe stato Andrea Quattrosi Come reggente Il re Suttana Nominato dall'architetto Giuseppe Riga Ah e si ricorda Quali provvedimenti L'architetto Liga Preso nei confronti Di Bartolo Genova Sì l'ho detto Nell'appuntamento Che ebbero Nel territorio Di Santa Maria di Gesù Alla presenza di No Corso Ci fu detto Da questo momento Cioè si decise Un appuntamento Per discutere questa cosa Sì sì L'ho detto prima Dopo l'appuntamento Bartolo Genova Insieme all'altro soggetto Il re Suttana Cercarono I No Corso E gli distrosai Ci ha portato L'appuntamento Gianni Nicchi Non abbiamo avuto Il tempo di avvisarmi E ci siamo andati Io in No Corso Già lo sapevo Perché era stato informato da me E lui disse Vabbè non ti preoccupare E ha fatto la faccia tranquilla Infatti quando Bartolo Genova Mi vede Mi disse Ma alla fine Non si è incavolato E ho detto Vabbè il fatto che ride Non significa che non si sia incavolato Dopo qualche giorno In No Corso Mi dice Vedi che c'è un appuntamento Portami Bartolo Genova A tale punto E precisamente Alla rotonda di Vioreto C'è una pompa di benzina Che c'è poi il bar Che poi Lo lasci là Che lo veniamo a prendere noi A quel punto Io portò l'appuntamento A Bartolo Genova E Bartolo Genova Un po' era preoccupato Cioè Bartolo Mi hanno detto Che a tale orario Ti devo portare là Il resto non lo so Devi essere presente tu E l'altro soggetto Il risultato Quindi l'ho accompagnato All'appuntamento Venne Andrea Quattrosi Venne Per Pucciola Bocchiaro Nella famiglia di Santina di Gesù Si sono portati a lui Con l'altro Soggetto di risultato Che attualmente Al pedelino Poi l'appuntamento Mi è stato spiegato Da Andrea Quattrosi Mi è stato spiegato Da Ina Corso Successivamente Anche all'architetto Giuseppe Liga In quell'occasione Ci dissero Che loro si erano permessi Di fare questo appuntamento Da quel momento Erano fuori famiglia Non si potevano occupare Più di niente All'interno di Cosa Nostra Che anche le altre famiglie Sarebbero state informate E che diciamo Erano stati fortunati Di Ina Corso Che Pippo E' una brava persona Perché in altri tempi Ci sarebbe stata la corda Significando che? Sarebbero morti In altri periodi Ok Lei con riferimento A questo conflitto Tra la parte di Giovanni Nicchi E dei Lopiccolo Per cui Insomma Bartolo Genova Prendeva delle decisioni E lei invece rimaneva fedele Alla linea dei Lopiccolo Sa di attentati omicidiari In questo periodo Progettate Per questa ragione? Ma un momento Ne ha parlato Di questi attentati Nelle verbate Ecco Allora Per capire Cosa deve precisare Visto che No In questa Di deposizione dell'udienza No In sede di interrogatorio Sì Lo so che non ne ha parlato oggi Ma nell'interrogatorio Nel verbale Che abbiamo acquisito Lui ha parlato Di questi episodi omicidieri Presidente Per la verità Non lo so Perché mi è stato fornito Stamattina La deposizione dell'udienza Ma Allora Andiamo avanti Chiedo scusa Presidente Il punto è questo Là Il processo EOS È un processo Nel quale Rappresentano L'accusa Due persone Diverse Dalle sottoscritte Noi Di questo processo Abbiamo avuto Solo ieri In tarda mattinata La trascrizione Del verbale Quindi Abbiamo dato il consenso Perché sappiamo Che è comunque utile Ai fini di una valutazione Complessiva Ma non conosciamo Nel dettaglio Quali sono Gli argomenti E i temi trattati Per cui Ci preme Comunque Fare Per quanto Ci hanno assicurato Che è stata Una deposizione Molto complessa E articolata Però ci hanno Comunque Mi rendo conto Questa proposta È stata fatta Solo stamattina Quindi non vorrei Che ci sfuggissero Dei temi Che comunque Ci risulti Sembrano Andiamo avanti Allora Grazie Presidente Allora Si ricorda ancora Della domanda Che le ho fatto Sì Ci sono stati Progetti omicidiari Allora Intanto faccio La premessa Che per Andrea Quattrosino Corso Dovono essere Eliminati tutti Questi soggetti Che avevano tradito Perché Perché avevano tradito Appunto L'hanno fatto fare Brutta figura A Giuseppe Liga L'architetto A Ino Corso A tutti Andrea Quattrossi Era un fedelissimo Aveva una specie Di venerazione Per Sandro Lopiccolo E il padre Pure perché Ne ha colato La Titanza E quindi per lui Si doveva colpire Addirittura Bartologeno Però di fatto Poi c'era Un progetto Di omicidio Confronti Di un soggetto Che appede libero Gioacchino in travaglie Per fare capire Anche A Bartologeno All'altro soggetto Di Resultana Che quello Era il segnale Anche per loro Un omicidio Che comunque Dove essere portato A termine Addirittura Nei primi di marzo Mentre che ero In carcere Mi fu confermato Da Ino Corso Perché a questo omicidio Partecipava anche Aveva dato il benestare Chiaramente anche L'architetto Avrebbe partecipato Anche la famiglia Di Santa Maria di Gesù Quindi In questo contesto Gli esecutori Sarebbero stati Proprio personalmente Andrea Quattrosi Ino Corso Peppuccio L'abbocchiaro Presumo Mario Napoli Avrebbe fatto parte Del commando Poi Giusto giusto In quei giorni Hanno tratti in arresto Ino Corso Perché era Nei primi di marzo E quindi mi si è saltato Ma sicuramente Sarà portato a termine Ugualmente da Andrea Tant'è vero Che dopo la mia collaborazione Sono stati tratti in arresto Anche Andrea Quattrosi Perché c'era questo rischio Di omicidio In particolare per Andrea Quattrosi Lei sa della disponibilità di armi Da parte di questo soggetto E dunque da parte Della famiglia di Resuttana Si aveva delle armi Per conto della famiglia Che aveva armi custodite Per conto dello piccolo Quali armi E chi le custodiva? Lui non mi disse il punto esatto Dove le custodiva Però perché sono domande Che non si fanno So che erano delle persone di fiducia Due soggetti Che lavoravano forse in ospedale Grazie all'intercessione Nello piccolo Le avevano sistemati C'erano pistole Fucili Mitragliatori Se si ricorda Che tipo di armi era? Io ho visto soltanto Quattro armi Quali? Perché quelle che Quando noi siamo Diciamo usciti Per eseguire L'omicidio di Michele Pellitteri Il giorno che si doveva Eseguire l'omicidio Di Michele Pellitteri Altro attentato omicidiario Sì Quello è stato proprio Un attentato omicidio Che non è stato portato a termine Perché nell'atto di compierlo Aveva il nipotino in braccio Quindi in quel momento I soggetti che erano Stavano per sparare Quindi Mario Napoli E Carlo Giannusa Chiaramente vedendo il bambino Hanno fatto un nuovo giro Aveva sempre il bambino vicino E hanno ritenuto Visto il rischio Che si poteva correre Di prendere il bambino Di ritornare Ma eravamo presenti Sul posto I Andrea Quattrosi Bartolo Genova Tutti il gruppo di Re Suttana E le motivazioni quali erano? Le motivazioni Che Michele Pellitteri Faceva estersione Senza autorizzazione Prendeva soldi Delle estorsioni Non arrivavano per i carcerati Ma li prendeva lui Non aveva nessuna autorizzazione Si era costituito Un gruppo di due o tre persone Che andavano Per le impalcature E addirittura Andò a fare Un'inclinazione A chiedere il pizzo Nella ristrutturazione Nella ristrutturazione Questo intende Le impalcature Sì Le impalcature Le impalcature Le impalcature Le ristrutturazioni Addirittura in un caso Questi due soggetti Fanno pure tratti in arresto Non so come si chiama Poi tra l'altro Lui fece un'intimidazione All'agenzia di scommessa Forza 13 Di Viaccele Gaspari Sempre Pellitteri Sempre Pellitteri E questo soggetto Di Forza 13 Non ha mai pagato Perché era vicino Alla famiglia Di Benedetto Capizzi Ci spiega Tant'è più Perché Benedetto Capizzi Era un uomo d'onore Si occupava di Santa Maria e Gesù Di Villa Grazia di Palermo E all'interno di questa agenzia Lavora un certo Tafuri Che poi noi siamo venuti a sapere Che era un nipote Di Benedetto Capizzi Infatti quando ci fu questa intimidazione Benedetto Capizzi Rintracciò Maurizio Spataro E Maurizio Spataro Venne a cercare di corso A Bartolo Genova E in quell'occasione Io cenavo a casa di Bartolo Genova Con mia moglie E quindi Noi non ne sapevamo Effettivamente niente Come risultano Poi tramite Il territorio Abbiamo scoperto Che fu Michele Villitteri Che addirittura Poi si presentò di presenza Alla Forza 13 Perché era l'estorsione Michele Villitteri Michele l'omicidio Fu Previsto E' stato prima Avvisato più di una volta Fu avvisato da Michele Di Trapani Di cercare di comportarsi bene Di non fare più questo Gli avevate fatto pure dei segnali Prima di procedere A questo tentativo E' stato dato dalle fiamme due volte La carnezzeria Era stata bruciata una macchina Davanti la carnezzeria Poi un altro E' stato dato fuoco Poi erano state fatte croci Con lo spray Poi lui Si andò a cercare Michele Di Trapani Michele Di Trapani Tornando all'architetto Liga Un momento Tutto quello che lei ha detto In quale anno si verifica Nel corso del 2009 Tornando all'architetto Giuseppe Liga Da chi è stato scelto E quando l'ha conosciuto E che ruolo aveva Da chi è stato scelto Liga A capomandamento di Tommaso Natale Come ha detto prima Lui chiaramente ci disse Ce lo confidò proprio Pippo Provenzano Ce lo disse in un corso Che era una persona Che rappresentava i lo piccoli Che era un personaggio storico Che si era tenuto sempre riservato E veniva riconosciuto da tutti Da tutte le famiglie Quindi per essere riconosciuto Ed era reggente o capofamiglie? Qual è la differenza? Lui è il capomandamento Cioè lui aveva il ruolo dello piccolo In quel momento storico C'era un momento in cui Io sono fatto parte di Cosa Nostra Significa che tutte le famiglie Diciamo tranne San Lorenzo Perché poi i biondini si staccarono Mentre sotto le genomanie dello piccolo I biondini furono messi da parte Nel senso che poi Con l'intervento di Giovanni Giacalone Addirittura consegnerono Il libro maestro Insomma non si interessava più niente Appena ci fanno tutti gli arresti Loro scesero di nuovo in campo Perché avevano l'appoggio di Gianni Nicchi Quindi sì Avevano rapporti con l'architetto Liga Ma i soggetti che Facevano riferimento realmente a lui Era Resuttana Tommaso Natale Spera Cavallo Tutti i paesi La prima torretta Carini Cinisi Tutta questa parte Era un sentito Leggemonia Diciamo all'architetto Liga Ogni famiglia Aveva un suo reggente E per le decisioni più importanti E reclatanti Dovano chiedere sempre il permesso a lui Quindi se omicidi O che so Azioni contro le forze dell'ordine Sto facendo un esempio Per tutto il resto La gestione ordinaria Se ne occupava il reggente All'interno della famiglia Rispetto alla gestione Lo piccolo Noi tutti i soldi Delle estorsioni Tutti i proventi Della famiglia E rimanevano all'interno Della famiglia Nel senso che noi Non portavamo i soldi All'architetto Giuseppe Liga C'era una differenza di gestione Per la cassa di famiglia Tra lo piccolo E invece Liga Sì Nel senso che Per quello che mi raccontava Anche Pippo Provenzano Nel corso Prima si faceva avere Tutto a loro Invece in questo caso Tratteneva tutta la famiglia Noi avevamo soltanto l'obbligo Nel momento in cui L'architetto Giuseppe Liga Voleva il resoconto Noi lo dovevamo portare Oppure se qualcuno Della famiglia Che so sferra cavallo Tommaso Natale Aveva dei problemi economici E noi in quel momento Avevamo una cassa Attiva Se Tommaso Natale Non riusciva Come di fatto Ad esempio Tommaso Natale Spesso non riusciva A pagare i carcerati Noi gli prestavamo Qualche cosa Perché in quel momento L'unica famiglia Che garantiva tutti i carcerati Era la famiglia di Resultana Nel senso che Noi tutti i carcerati Di nostra competenza Ogni mese Dalle 600 alle 1000 euro al mese Garantivamo tutti i carcerati E me ne occupavo In prima persona Arriviamo alla famiglia Di Resultana L'architetto Liga Chi vuole come reggente Alla famiglia di Resultana E cosa viene deciso? L'architetto poi Dà il placet Chiaramente per Bartolo Genova Cioè da fare una premessa Che dopo gli arresti Di gennaio 2008 Benetto Capizzi E quindi di Salvo Genova Salvo Genova Calogero Picco Tutti i soggetti Che comunque C'hanno parte Allo schienamento E lo picco Quelli per cui doveva curare La latitanza Calogero e Salvo Genova Esatto In quel momento Benetto Capizzi Non so in base a quello che mi disse Poi l'architetto Ino Corso In base a quale regola Mise Gaetano fidanzato Alla regenza di Resultana Resultana compende anche Arenella Dovrebbe Far parte L'Acqua Santa Però di fatto L'Acqua Santa Noi non ce ne siamo mai occupati Perché già avevamo problemi A gestire Il Resultana E l'Arenella Quindi dell'Acqua Santa Poi si occupavano Altri due soggetti Di cui ho riferito Che sono uomini d'onore Che sono a piede libero Sempre col benestate Dell'architetto Giuseppe Liga Quindi di fatto Benetto Capizzi Mette Come reggente All'Arenella E a Resultana Gaetano fidanzato Ma questa investitura È soltanto formale Perché di fatto Gaetano fidanzato Non aveva una squadra Un gruppo di persone Che potevano curare il territorio Perché alcuni soggetti Che si muovevano Prima per Salvatore Genova Sul territorio Intendo muoversi Significa le estorsioni Conoscere i posti Dove andare a prendere i soldi Erano fedeli sempre A Salvatore Genova E quando Bartolo Genova Unitamente a me Abbiamo fatto presente La volontà Che poi fu fatta sapere A Maria Angela Di Trapani Per dare il placente Madonia Fu fatta sapere All'architetto Liga Più piano infatti Signor Passa Con calma Altrimenti arriviamo A dei passaggi successivi Diciamo che Le placette per Bartolo Noi dal primo giorno Subito dopo gli arresti Ci siamo occupati subito No, cominciamo Dalla scelta Dell'architetto Liga Ci ha detto Che l'architetto Liga Parteggiava per Bartolo Genova La distinzione Devo fare L'architetto Liga Comunque ha riconosciuto Subito Genova Alla regenzione Ma non lo fa capire In quali incontri E cosa dice a Bartolo Genova Si incontra dopo poco Dari gli arresti Di suo zio Al Charleston Dove lui lavorava Con Pinuzzolo Verde E l'architetto Giuseppe Liga Si ricorda il periodo Ci ha detto Febbraio Dopo gli arresti Di gennaio 2008 E cosa gli dice Gli dice che Effettivamente Lui aveva saputo Troppo Pinuzzolo Verde Che c'era la volontà Di continuare Ciò che aveva fatto lo zio Che lui era in grado Di portare a termine Di garantiti ricarcerati Era in grado di Portare avanti Diciamo la baracca E quindi Gli disse in quel contesto Dice sarebbe opportuno Però che ti prendi la patente Cioè che diventi Uomo d'onore Pure perché così Domani qualcuno Non può contestare Questo tuo status Chi era lo zio? Lo zio era Bartolo Genova Salvatore Genova Mi scusi Lo zio di Bartolo Genova E Salvatore Genova Bartolo Genova Che era il reggente Di Erre Suttano Che era quello arrestato A gennaio 2008 Esatto Per cui dopo si voleva Fare avanti Bartolo Genova Esatto Avanti pure perché Noi eravamo in condizione Di portare avanti Lo facevate già di fatto? Noi di subito L'abbiamo fatto Cosa facevate? Ad esempio Mario Napoli Altri soggetti Ci portano già subito I soldi dell'estorsione Abbiamo garantito Subito i carcerati Dal febbraio 2008 Da fine febbraio Tranne gennaio 2008 Che fu il periodo Di interdizione Da fine febbraio 2008 Sono arrivati i soldi A tutti i carcerati Chi sono i carcerati? Allora i fratelli Madonia Quali? Salvino, Giuseppe Tutti della famiglia Madonia Niccolò Di Trapani Gli sono stati dati Mille euro ciascuno Come mensile Poi Penuzzo Guastella Dotto Castiglione Ci precisa il ruolo All'interno di Cosa Nostra Di questi soggetti Che sta menzionando? Madonia Diciamo la famiglia storica Di Resuttana Ciccio Madonia È il capo storico Di Resuttana Anche loro Da sempre Anche se sono in carcere Hanno un ruolo Vincolante Diciamo all'interno Della famiglia Tant'è vero che Quando Bartolo Genova Fa sapere Poi Maria Angela Di Trapani Con cui ha un rapporto diretto Maria Angela Di Trapani Sarebbe la moglie Di Salvino Madonia In quel periodo C'era un soggetto Uno dei tre fratelli Che era stato levato Il 41 bis Addirittura porta Il placet L'ok Per la reggenza Di Bartolo Genova Alla famiglia di Resuttana Parere che è stato Vincolante Anche per l'architetto Liga Che ne ha tenuto In considerazione Di questo parere De Madonia Andiamo un attimo indietro Stiamo al momento In cui l'architetto Liga Dice a Bartolo Genova Se ti pigliassi La patente è meglio Rispetto a fidanzati Qual era la differenza Tra fidanzati Messo da Benedetto Capizzi E Bartolo Genova Sponsorizzato Dall'architetto Liga Intanto Tengo a precisare Benedetto Capizzi Non poteva mettere Che era una fidanzata Da Resuttana Questa è già la prima anomalia E come mai E infatti poi L'architetto Liga A questo potere Chi è Benedetto Capizzi Benedetto Capizzi Si era messo in testa Di riformare la cupola Di riorganizzare Lui si riteneva Il numero uno In quel momento Di Cosa Nostra A Palermo E invece poi Ha trovato l'avversione Dell'architetto Liga E capì che Con l'architetto Liga C'era una serie di famiglie Che poi L'unione delle famiglie Fa la forza Più famiglie E vicino Con l'appoggio di chi Benedetto Capizzi Aveva il progetto Di ricostituire Su questo Non le sorrisponde Sono solo che L'architetto disse Che era Benedetto Capizzi Che si era improvvisato Ci fu una riunione Con questo intendimento Con questo progetto Sì Lui va a riformare La cupola E cercava di mettere Le persone sue Nelle varie famiglie Chiaramente Gaetano Fidanzate era una persona sua Però Gaetano Fidanzate Era uomo d'onore Ma era uomo d'onore Nella famiglia di Bolognetta Quindi Anche di fatto Lui Al Resuttano Non ci potevano mai andare Perché la prassi dice Che se tu sei uomo d'onore E qual è la prassi Per cambiare famiglia? Se tu sei uomo d'onore Per esempio La famiglia di Resuttana E io voglio Andare a Santa Me e Gesù Intanto ci deve essere Lui sono nato e cresciuto A Resuttana Anche quando devo fare Un uomo d'onore Cioè quando devo combinare Un uomo d'onore Ad esempio Noi abbiamo combinato Mario Napoli A Resuttana Ma lui è cresciuto E è nato a Ballarone L'abbiamo fatto prima sapere Alle persone responsabili Di quella zona Perché è un soggetto Che è nato Cresciuto Bazzicava là E loro ti danno L'ok E lo combini Ma se tu sei uomo Dei Bolognetta Non ti puoi andare a occupare Di Resuttana Assolutamente no Quindi lui tentò Di Resuttana Non riuscì a portare A termine niente Perché non aveva Nessun controllo Sul territorio Tutti i uomini Che erano fuori Erano fedeli A Bartolo Genovo In quel momento Lui incominciò A tentare di fare Qualcosa all'Arenella Unitamente A un gruppo di persone Che noi Abbiamo definito L'armata Brancanoma Nino Caruso Perché Agostino E noi lo chiamiamo Basettone Agostino Pizzuto Pizzuto Misero pure Nino Caruso Invece chi era Nino Caruso È un soggetto Che lavora a Villa Sofia E che si conosceva Molto bene Con Gaetani Fianzati E si Era prima Vicino Diciamo a Salvatore Gemona Fra virgolette Ogni tanto Gli portava la macchina Ma non era uno Appartenente A Cosa Nostra Quindi questo gruppo Michele Patti Giovanni Milano Il Pizzuto Erano vicini Ci sono messi vicino Gaetani Fianzati E in testa loro Dovevano organizzare Una specie di famiglie E in quale famiglia Operavano? Teoricamente Partiva dal presupposto Anche di Resuttana Ma non ci sono riusciti Sull'Arenella Cominciarono a fare Qualche istorsione Andrano in una costruzione In un palazzo Che stavano costruendo Ma il costruttore Si rivolse subito a noi Ci racconta questa vicenda Della palazzina All'Arenella? La palazzina Se vuoi maturizzare Ci sono delle indagini in corso Da parte del dottore Paci Di questo costruttore Solo genericamente Che lavori vi erano? C'era un palazzo Che era iniziato i lavori E c'era un accordo All'Arenella Già ai tempi di Lopiccolo Con Salvatore Genova Dove questo costruttore Doveva dare 100.000 euro Per queste costruzioni Ed era un prezzo di favore Perché questo costruttore Era vicino agli ambienti Di Cosa Nostra Ma lei queste cose come le sa? Del costruttore? Per fatti diretti Da Salvatore Genova E poi il costruttore L'ho conosciuto personalmente Pure io successivamente Sì Presidente Non andiamo oltre nell'esame Perché oggetto di indagini Ci fece avere infatti 10.000 euro come a conto E poi ci doveva fare avere Una trancia di 40 Un'altra di 50 Poi ci fu una serie di interventi Di soggetti Cosa Nostra E gli furono levati 20.000 euro Di sconto Quindi c'era questa costruzione in corso E Gaetano Fidanzati Si presentò addirittura In prima persona Direttamente dal costruttore Quindi loro cercavano di muoversi Ma noi abbiamo messo Noi avevamo un soggetto Che era Maurizio Spataro Che era vicino a Gaetano Fidanzati E diciamo tra virgolette Attentava tutti i discorsi Che gli faceva Gaetano Fidanzati E lo teneva sott'occhio Tra l'altro c'era un altro soggetto Che era Sergio Giannusa Che faceva parte della famiglia di Resuttana Che era un uomo d'onore Che era del territorio Della Renella E quindi andava a controllare Tutti i movimenti Che facevano questo gruppo di persone Perché c'erano anche altri soggetti Un certo è Torino Che io non conoscevo Che non ho mai conosciuto Che sapevo che era pure vicino A Gaetano Fidanzati Poi Gaetano Fidanzati Gli fu detto chiaramente Dall'architetto Giuseppe Liga E addirittura in un'occasione Nino Caruso Si stava interessando Di alcuni lavori all'interno del CTO Dove deve sorgere un bar Un ristorante Perché Nino Caruso che lavoro faceva? Lavorava a Villa Sofia E quindi Gaetano Fidanzati Gli ha detto Vedi occupetene tu Abbiamo chiamato Nino Caruso Io E' un altro soggetto Di Resuttana Che in quel momento Diciamo era il vice di Bartolo Geno E abbiamo detto Dici a Gaetano Fidanzati Che non esce più di casa E tu non ti immischia Dici che non si immischia più in niente Poi è stato detto chiaro Perché Gaetano Fidanzati Forse era ancora confuso In quel momento Perché magari Capizzi Diceva una cosa Da quel momento Forse si è fatto la strada Insomma Ha verificato anche Come abbiamo detto Capizzi Da quel momento A Resuttana E all'Arenella Non succede più niente Loro non si muovono più Questo gruppo Tanto è vero Che questo gruppo Vicino a Gaetano Fidanzati Poi si sposta A Pallavicino Vicino 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 a Vincenzo Troia Che era il reggente di Pallavicino Che poi sarà estromesso Dall'architetto Liga Alla fine del 2008 Tornando alle persone Che sono vicine Al Fidanzati Perché ce le ritroviamo Nelle intercettazioni EOS Ci specifica Chi era Giannusa Se si ricorda Il nome di Battesimo E che attività aveva Sergio Giannusa Fa parte della famiglia In Resuttana Persona di fiducia Salvatore Giannaro Persona di fiducia nostra Ha una vetreria All'Arenella E da sempre Lavora in quel territorio Si ricorda la via O la vicinanza Di fronte ai vecchi Depositi della chimica Arenella E rispetto ai campi Di calcetto Di Salvatore Locicero Ma questo Non glielo sono indicato Se è vicino o no La via Dove c'era L'ex chimica Arenella Vino Caruso Ci ha detto Lavorava a Villa Sofia Sì esatto Ma con che Che faceva Io mi ricordo Ci sono andato due volte Con Salvatore Genova E ci vediamo sempre Davanti il deposito Della farmacia Poi non so Che ruolo aveva Poi ci ha parlato Di Ettorino Se lo ricordano Ettorino Non l'ho mai conosciuto Però Parlava sempre Sergio Che era uno Che portava gli appuntamenti Di Totolo Cicero Portava gli appuntamenti Quindi un soggetto Chiamato Ettore Ettorino lo chiamavano Sì E se aveva una macchina In particolare No no Non l'ho conosciuto Questo Non glielo so di Va bene Arriviamo alla Regenza di Bartolo Genova E Andrea Quatrusi Qual è il passaggio? Allora ripeto Bartolo Genova di fatto Dopo gli arresti Si occupa subito Di risultare Poi viene combinato Formalmente in Cosa Nostra Alla fine del 2008 Un mese Prima di essere combinato io Poi a dicembre 2009 Dopo l'appuntamento Che lui ha fatto Con Gianni Nicchi Viene fatto l'appuntamento Come ho detto L'architetto Lì Che viene a corso E viene stromesso Da dicembre 2009 Il reggente della famiglia Il Resultana È Andrea Quattrosi Uomo d'onore Combinato formalmente Dall'architetto Giuseppe Liga Con riferimento al libro mastro Della La cassa di famiglia Il Resultana Il Resultana Chi l'ha tenuta? L'ho tenuta io Fino a Ottobre 2009 Poi visto che Ero uscito sui giornali Più precisamente su Est Con le dichiarazioni di Maurizio Spataro Ho detto Ritengo che sia un soggetto Che possa essere arrestato io Quindi è inutile Mi tengo la cassa E queste cose E le ho consegnate ad Andrea Quattrosi Cassa E il libro mastro Che poi era un'agendina Ci ricorda come compilava la cassa E con quali pseudonimi Indicava le ditte storte? La cassa La compilavo io E rendevo edotto Del metodo Ad Andrea Quattrosi Così in caso di mio arresto Lui era in grado di poter capire Noi non scrivevamo mai I nomi Degli esercenti Mettevo pseudonomi E del tipo? Tipo Schillaci Giocatore Juventus Che indicava? Schillaci Scarpe Tatiana Timberland Perché è unico proprietario E pagava due volte l'anno E quindi Essendo l'unico proprietario Noi sapevamo a chi si riferiva Ad esempio Bulling Ci scriviamo palla Poi c'era un panificio In via Alcide Casper Che è di un altro Di un ex giocatore del Palermo Vasari E quindi Noi ci mettevamo Palermo Però erano dei nomi Che mettevo io E che capivo solo io Quindi se domani Venivano in mano Alle forze dell'ordine Con la scritta palla Non potevano andare Dal proprietario del bullying E mela? E mela Sarebbe il golden Per esempio Perché c'era la mela golden Allora facevo questo connubio E quindi il golden E carne per esempio Mettevo golden Carne Era la carnezzeria vicina al golden Di tutti i nomi In maniera di non farli Rintracciare Per quanto riguarda poi La contabilità Noi su questo libro Masso Scrivevamo soltanto Quanto pagava Pasqua è nata La mettevamo P Più N Poi la contabilità Diciamo periodica Veniva buttata Onde evitare Il fatto che Si è verificato Con l'arresto Dello piccolo Di trovare tutta la contabilità Significa che se io Dovo incassare per Pasqua Centomila euro Per dire Quando arrivavo al saldo C'erano incassati i soldi Pio mi strappavo tutte le cose Poi era un rapporto di fiducia Tra chi teneva la casa Nella fattispecie io E il mio reggente E questo quindi come una forma di cautela Rispetto a quello che era successo Con lo piccolo Esatto Perché chiaramente Quando noi scriviamo La contabilità Diciamo periodica E mettiamo pure Chi li va a prendere Allora A quel punto Buttavamo tutte le cose Il conto Appattava Per diecentomila euro Noi avevamo tanti riferimenti Che in caso Io non avevo bisogno Neanche di riferimenti Perché mi ricordavo tutti a memoria Però se ben restavano a me Ad esempio Andrea Quattro Si doveva essere in grado Con quei riferimenti Di continuare L'attività estorsiva Che poi è la fonte Di guadagno Per garantiti ricarcerati Lei prima ha accennato A Maurizio Spadaro Come l'ha conosciuto E che faceva? A Maurizio Spadaro La prima volta Lo conosciamo Tramite Giovanni Milano Che poi Durante il processo Di EOS Mi hanno specificato Che si chiama Riccardo Ma io lo conosco Come Giovanni Milano Che era autista Di Totò Genova E persona di sua fiducia Che ce lo presenta A Villa Sofia Unitamente a Sergio Giannuse Poi Maurizio Spadaro Ci viene raccomandato Da Michele Di Trapani Ci viene sponsorizzato Da Pinuzzolo Verde Insomma Una varie di soggetti Che ci parlano Come un soggetto Che ai tempi Di Giovanni Bonanno Conosceva molto bene Il territorio E conosceva tutto quello Che riguardavano le estorsioni Tra l'altro Era un soggetto Che conosceva bene A Tenino Lopresti Regente della Palermo Centro Porta Nuova Uomo d'onore E aveva contatti Con diversi soggetti Conosceva un po' a tutti E ci ha aiutato La fase iniziale Anche a ricostruire La mappa delle estorsioni Perché con gli arresti Che ci sono stati Noi non abbiamo trovato Né una lira in cassa Né Il libro dell'estorsione Quindi è stato ricostruito Sul campo Che significa sul campo Che se c'era un soggetto Tizio Che era un estorsore Che era rimasto A Piede Libro Lo chiamavano Tu in quale negozi vai Da tizio Che è sempre un po' E li scrivevamo Quindi l'abbiamo ricostruito Piano piano C'è da dire però Di fatto che io Detenevo una somma Che nel 2007 Mi è stata consegnata Da Totò Castiglione Che era persona Di Tresuttana Vicino a Salvatore Di 150 A quanto ammontava Questa somma Da cosa proveniva E a chi viene data A Totò Castiglione Da chi viene data A Totò Castiglione Siccome in quel momento Era un soggetto Che non mi conosceva nessuno Neanche Ilo Piccolo I tempi Cioè era incensurato Era incensurato Era insospettabile Addirittura anche i tempi Salvatore Genova I Lo Piccolo Non sapevano che Salvatore Genova Avesse una persona di fiducia E mi fece avere 150.000 euro Chiusi in dei giornali Con delle sigle Salvo Genova mi disse Lo sappiamo io Mia nipote E Totò Castiglione Questi soldi Non ci sono Io presumo Suo nipote chi? Bartolo Genova Che deteneva un'altra somma Di 80.000 euro Sempre dati dallo zio Sempre dati dallo zio Salvatore Genova In caso mi succede Qualche Ed erano i soldi di? Io presumo soldi di estorsione Cioè della cassa della famiglia Che lui non aveva fatto avere Di Resuttana Non aveva fatto avere A Ilo Piccolo E si era tenuti per lui Come garanzie In caso di arresto Quindi ci racconta Ma non le fu detto niente al riguardo Perché le dice presumo? Presumo perché non mi fu detto Beh La vicenda della dazione Di questi soldi Da parte di Totò Castiglione Ce la racconta meglio Come le vengono dati? Salvatore Genova Confezionati come E con quale ordine? Con quale? Settembre 2007 Mi vengono portati Da Totò Castiglione Presso l'ufficio mio In via Resuttana Lei che ufficio aveva? Di infortunistica stradale E mi vengono portati Avvolti in dei giornali Ricordo che in questi giornali C'era una sigla Una sigla e una data Lui mi disse Ritaglia queste sigle E li consegni a Salvatore Genova E mi ricordo che nel contare Per dimostrare cosa? Che mi aveva consegnato i soldi Lui mi disse Sono 150.000 euro E li contò? Sì E quanti erano? 149.000 Mancavano? 1.000 euro E poi i soldi li ho detenuti Fino all'arresto di Genova E poi li ho fatti avere alla moglie Con che indicazione le vennero dati In caso di arresto di Salvo Genova? Allora inizialmente Salvatore Genova Mi ha detto di dargliela poco a poco Ma siccome noi poi ci siamo inseriti Fattivamente in prima linea All'interno della famiglia di Resuttana Chi? Lei è? Bartolo Genova A fare cosa? A occuparci della famiglia mafiosa di Resuttana La moglie di Salvatore Genova Preoccupandosi di eventuali nostri arresti Dice dammeli tutti E voi li restituiste? Sì sì Gli ho dato 149.000 euro E Bartolo Genova gli diede 80.000 euro In quante tranche e a che cadenze? No Bartolo Genova gli diede tutti subito Gli ho dato in 2-3 volte In quanti mesi? Tra febbraio e marzo del 2008 Chiaramente noi anche quando c'è stato C'è la famiglia di Resuttana In questa somma non abbiamo mai parlato A garanzia di Salvatore Genova Lo sapevamo soltanto io e Bartolo Genova E' tutto Castiglione che era in atto detenuto Tornando solo a Maurizio Spataro Per un particolare Lei ha detto era sponsorizzato da Michele Di Trapani E Pinolo Verde Quando viene arrestato Chi provvede al suo mantenimento in carcere? Provvediamo a noi, alla famiglia di Resuttana C'è la famiglia di Resuttana Gli diamo 800 euro al mese Più le spese dell'avvocato Che pagavamo direttamente a noi Ora, con riferimento alla famiglia di Resuttana Di cui ha parlato Ce ne può delineare i confini E la storia quindi delle reggenze sinteticamente Per come finora è esposta? In ordine al periodo in cui sono stato io? Prima i confini I confini di Resuttana Va da via Ingegneros Che è la delimitazione con San Lorenzo Fino a via Libertà Al Politiama Poi ci sono state tipo via Asciuti Via Terrello Santa Che c'è un marciapiede Il Resuttana E un marciapiede Cruillas Quindi il mandamento di Resuttana L'Acqua Santa e l'Arenella Vi sono conti? L'Arenella era sotto il nostro Storicamente Intanto storicamente Resuttana dovrebbe fare mandamento a sé E sotto di sé dovrebbe avere Arenella e Acqua Santa Poi con l'avvento di Nello Piccolo Il Resuttana Cosa succede? Fa parte direttamente Sempre del mandamento di San Lorenzo Viene inglobata nel mandamento di San Lorenzo Però nella nostra gestione Dell'Acqua Santa non ce ne occupiamo Arenella dà conto e ragione a noi Infatti i soggetti che si occupano Dell'Acqua Santa Si occupano anche dell'Arenella Nell'ultimo periodo I provamenti dell'Arenella Vengono dati a Resuttana Con riferimento a Sferra Cavallo Torretta Palla Vicino Di quale mandamento fanno parte? Sempre Tommaso Notale e San Lorenzo E facevano capo all'architetto Giuseppe Liga Con riferimento solo alla sua conoscenza Per altri reggenti Alla famiglia San Lorenzo e a Tommaso Natale A Palla Vicino chi c'erano? San Lorenzo è un soggetto a piede libero Se voi mi autorizzate io lo dico No Avante Tommaso Natale Pippo Provenzano Giuseppe Provenzano Che ha un negozio di ferramenta Ed era Diciamo Come ho detto prima Insieme a Ionocorso Rappresentava in qualsiasi occasione Anche l'architetto Per quanto riguarda Palla Vicino Che già l'ha menzione Palla Vicino Se ne è occupato Fino a fine 2008 Vincenzo Troia Uomo d'onore Poi fu estromesso Dall'architetto Giuseppe Liga Diciamo che Pippo Provenzano In quel momento Aveva una delega Anche su Palla Vicino Aveva messo sul territorio Alcune persone Vito Nicolosi E poi Altri estorsori Che prima erano Con Vincenzo Troia E poi continuarono Con Pippo Provenzano Però di fatto Non c'era un vero reggente C'era una delega Di Pippo Provenzano Su Palla Vicino Ora Signor Passa Arriviamo agli imputati Di questo processo Con riferimento A Gaetano Fidanzati Cosa ci può raccontare Della sua appartenenza A Cosa Nostra Ci faccia un escurso Sulla sua conoscenza Conoscenza Io so che Gaetano Fidanzati E' uomo d'oro E' la famiglia di Bolognetta Era un soggetto storico All'interno di Cosa Nostra Ma durante L'egemonia Dello Piccolo Non aveva nessun ruolo Addirittura era in viso A Salvatore Genova Tant'è più Che questo poi Fu noto Era noto anche L'architetto Giuseppe Liga E Dello Piccolo Come lo consideravano? Dello Piccolo Non lo tenavano in considerazione Tanto più Che Salvatore Genova Visto che si occupava Del territorio Diciamo Salvatore Genova Era nel cuore Dello Piccolo Perché fu messo da loro Salvatore Genova Salvatore Genova Nei confronti di fidanzati Aveva un'avversione Quindi i fidanzati Non avevano nessun tipo Di spazio Fino a tutti gli arresti Quando sono stati tutti gli arresti Quindi c'è stata Una lacuna sul territorio C'era una mancanza Sul territorio Che entrano fidanzati Tramite Metto Capizzi Cerco di inserirsi Ma poi trovo Il nostro ostacolo Che non era previsto Ce l'ha accennato prima Di quale famiglia faceva parte? Della famiglia Mafiosa di Bolognetta E se era stata osservata la prassi Per trasferire Assolutamente no Assolutamente no Lei come che viene a sapere Di Capizzi Benedetto E della sua scelta Di fidanzati Gaetano A capo Il primo che ci portò le notizie Fu Spataro Poi successivamente Nel corso del tempo Tramite Pienuzzolo Verde L'architetto Giuseppe Liga Tramite Bartolo Geno Perché Spataro Come lo conosceva Gaetano fidanzato? Spataro lo conosceva tutti Praticamente Quindi sicuramente Grazie ai suoi trascorsi All'interno di Cosa Nostra Quindi Gaetano fidanzato Aveva un buon rapporto Gaetano fidanzato Spesso si confidava Con Spataro Fidanzati Quanto tempo resta Alla regenza di Resuttana? Diciamo che formalmente Sei mesi del 2008 Ma di fatto A Resuttana Lui non fa mai niente Perché siamo noi Che operiamo su Resuttana In che senso? Di cosa si occupa in particolare? Chi si occupa delle estorsioni? Lui aveva quel gruppetto Di cui ho detto prima Che tentava di fare Qualche estorsione Sul territorio dell'Aranella Resuttana Che era in grado Di portare a termine niente Quindi diciamo che Formalmente Mi ha detto Capizzi Lo mette a Resuttana Ma sul Resuttana Lui non opera Opera su Arenella Con qualche estorsione Con qualche tentativo Di estorsione Dovano poi gli mettiamo I bastoni in mezzo al ruoto Fino al momento in cui L'architetto Liga I fa sapere Che non si deve muovere più Sul territorio Questo quando succede A seguito Primo semesto 2008 In seguito Poi al fatto Che l'architetto Liga Ufficializza Che è Bartolo Genova I reggenti In Resuttana Poi successivamente C'è pure l'omicidio Di Bucaro Che è pure un'altra cosa grave Perché Ci spiega bene Di cosa si tratta? Praticamente il genere Ero di Gaetano Fidanzati Che forse aveva un problema Con la figlia Che si chiama? Loredana Cosa succede? Lo so perché veniva a scuola Con me questa ragazza Bucaro e Loredana Aveva dei problemi Con il marito Avevano problemi Di tossicodipendenza Gli alzava le mani Quindi lui di sua iniziativa Gli fa una spedizione punitiva Sì Fidanzati Fidanzati Con dei ragazzi Dell'Arenella Che neanche conosciamo E nel corso di questa spedizione Punitiva Che qua non saprei precisarle Se c'era l'obiettivo Di ucciderlo o no Era una spedizione per darci una lezione Questo soggetto muore Quindi che cosa fa? Si attraggono le forze dell'ordine Su un omicidio Che comunque dice Magari lo potrebbe sapere Cosa nostra Gli alzava fidanzati Non ne ha fatto sapere niente A quel punto È la ciregina sulla torta E viene detto addirittura Di andarsi Tanto è vero che lui se ne va La latitanza la fa fuori Da Palermo Pure perché Non c'è nessuna egemonia Sul territorio E questo è in che periodo? Il periodo Questo è sempre nel corso del 2008 Cioè quando andò via? Dopo la morte? Sì dopo la morte Dopo la morte Ma dopo quanto tempo? Questo non glielo so precisare Perché poi Fu una scelta sua di andarsi Vabbè Il fatto che lui Non provvedeva nessuno Alle sue necessità Della sua famiglia Non aveva nessuna egemonia Sul territorio Quindi era un soggetto solo A Palermo Quindi noi abbiamo presunto All'interno della famiglia Resultana Che avendo parenti Lui su Milano Se ne potesse andare là Da chi viene detto A fidanzati Di non occuparsi più Della regenza Di Resultana Chiedo scusa C'è Sulla modalità Dico Della Della domanda C'è un passaggio Di non occuparsi L'agenza Presuppone Che si sia occupato Allora Lo faccio In maniera più generica Quali sono le modalità Con cui fidanzati Gaetano Capisce di non potersi più occupare Della regenza Di Resultana Tramite l'architetto Liga Che lo fece presente Anche a Benetto Capizzi Però ripeto Formalmente Fu messo a fare Però di fatto Era un monogo Però sul territorio Ma questo significa Che non si era mai occupato Della regenza Di Resultana Assolutamente no Però ha portato a termine Delle estorsioni Dei tentativi di estorsione Sul territorio dell'Arenella Che faceva parte Il Resultana Estorsioni E tentativi di estorsione Entrambi Entrambi Ma era una cosa Adesso il panificio 500 Tramite quei soggetti Che ha menzionato Esatto E comunque lui era stato Nominato reggente A Resultana Da Benetto Capizzi Sì Però che non aveva Titolo a nominarlo Cosa succede Dopo che Gaetano Fidanzati Viene praticamente Stromesso Dalla regenza Di Resultana Per i soggetti A lui vicini Per i soggetti Noi continuiamo A fare quello che facevamo Quindi per noi Non è cambiato niente Di fatto Avevamo un pensiero E governavate pure L'Arenella A quel punto Sì Diciamo che avevamo Queste camurrie Fra virgolette Di questi soggetti Ogni tanto si improvvisavano Andare a fare estorsione E quindi cosa pensaste Di fare di questi soggetti No questi soggetti Noi non ne abbiamo Mai confidenza Poi questi soggetti Cadendo Gaetano Fidanzati Si avvicinano A Pallavicino A Vincenzo Troi E iniziano a lavorare Per conto di Vincenzo Troi Poi Vincenzo Troi Cade in disgrazia Quindi magari Non portano Tanto fortuna Vincenzo Troi Alla fine 2008 Viene levato Dalla regenza Di Pallavicino Alcuni continuano Con Pippo Provenzano E altri addirittura Rimangono Senza lavoro E quindi A Resultana Chi succede A Gaetano Fidanzate Nella regenza Bartologiano Un momento La domanda così è posta male Perché ha già chiarito Che di fatto Non si era mai occupato Della regenza Al Resultana Nominato da Benedetto Capizzi regente Di Resultana Ma così ha detto Che non si era mai occupato Di fatto E così o no? Di Resultana No si è occupato Di alcune estorsioni E' tendata estorsione All'Aranella E questo l'ha detto tre volte Quindi Al Resultana Non ha mai esercitato Aranella fa partire Il Resultana Sì però Fatta questa precisazione Che riguarda La Renella Lei ha detto Che non si è occupato Di null'altro Sul Resultana Assolutamente no Perché i soldi Venivano recapitati a noi Sì ma formalmente Era regente di Resultana In forza di che cosa? Per i primi sei mesi Sì perché Benetto Capizzi Lo nominò E ancora l'architetto Giuseppe Liga Non si era acclarato Palesamente Cioè si sapeva Che era lui regente di Resultana Sì 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 Per molte famiglie Veniva riconosciuto Anche se era in viso A Bartolo Genova E lo piccolo Addirittura Sì per molte famiglie Mafiosi di Palermo Inizialmente per i primi sei mesi Riconoscevano in greta Nei fidanzati I regenti di Resultana Si sapeva che era lui Sì Poi fu l'architetto Liga A chiarire a tutte le famiglie Che non era lui regente Ma da quel momento era Perché sponsorizzava Bartolo Genova Esatto Che però non aveva la patente No però I suoi fidanzati Era uomo donore Uomo donore E la famiglia donnette Però l'architetto Giuseppe Liga Ci disse pure Che soggetti Nella storia Anche altri soggetti Che non erano uomini d'onore Regenza Però era l'ideale Prendersi la patente Perché diciamo Nel senso di combinazione In cosa nostra Di affiliazione A cosa nostra Si sistemava E aveva un ruolo Più riconosciuto E perché lo diceva Bartolo Genova Di prendere Sì perché ci fu Questo discorso Della patente Perché dice Domani se mi arrestano A me Non c'è nessuno Qualcuno si può appigliare Al fatto che non sia Un uomo d'onore Se è la regenza Di una famiglia E anche con riferimento Al fatto che era stato Scelto fidanzati C'entrava qualcosa Fidanza Giustamente Benetto Capizzi Poteva fare presente All'architetto Dica Che non era uomo d'onore Ma questo non significa nulla Perché se per questo Neanche credo a una fidanzati Poteva essere regente di fidanzati Perché era uomo d'onore La famiglia di Bolognette Quali erano i rapporti Tra fidanzati E lo cicero Lei conosce Lo cicero Salvatore Chi era? No personalmente Non lo conosco Lo cicero Salvatore Cosa sta di lui? Bartolo Genova Andato a qualche appuntamento Con lo cicero Salvatore Era una persona Di massima fiducia Ai tempi di ciccio Madonia Era Cioè quale ruolo ha All'interno di Cosa Si occupava dell'Aranella Ai tempi di Salvatore Genova Con quale ruolo? Era uomo d'onore Uomo d'onore Si occupava proprio Del territorio dell'Aranella Ed era sotto le dipendenze Di Salvatore Genova Che poi era sotto le dipendenze De Lo Piccolo E lei come lo sa? Questo? Questo Me l'ha detto Bartolo Genova Me l'ha detto poi L'architetto Liga Me l'ha detto Pippo Pimuzzo Lo Verde Ed era una persona Infatti che l'architetto Liga Ci diceva di rispettare Infatti inizialmente La Totolo Cicere Si doveva occupare Della Ranella Però lui disse a Bartolo Genova In un incontro Che aveva un processo in corso Per sequestro dei beni Dei beni che erano? Proprietà immobili Per diversi numeri di euro Cioè erano suoi personali? No sono dei madonia Lui è un pestannome Da sempre dei madonia Quindi si spaventava Andare in prima linea Dice metto a rischio Tutto quello che ho E quindi Poi l'altra è anziana Va dalle sofferenze Qual era il rapporto Tra Gaetano Fidanzati E Salvatore Lo Cicero Nella regenza di Resuttana? No non c'era Totolo Cicero Di fatto non si doveva occupare Neanche lui di niente Mentre Fidanzati Se ne voleva occupare Ma fra di loro Non correva a buon sangue Neanche Tra Lo Cicero Gaetano Fidanzati Addirittura In un primo momento Fu pensato di mettere A Totolo Cicero Come reggente di Resuttana Cosa che poi Non andò neanche in porto Anche se sul territorio Ogni tanto girava la voce Che era Totolo Cicero Il capo della famiglia di Resuttana Quando uscivano i giornali Scrivano di fidanzati Di Lo Cicero Diciamo che a noi stava bene Perché ho detto così Gli inquirenti si convincono Che Totolo Cicero Gaetano Fidanzati Non siamo noi Che ci occupiamo di Resuttana Perché formalmente erano loro Ce ne occupavamo noi Però c'è stato Quest'equivo di fidanzati Che è stato comunque Nominato formalmente E poi addirittura Ci fu anche l'equivo Su Totolo Cicero Che si occupava di Resuttana Ma era Bartolo Genomo Che si occupava Che tipo di equivoco? Sul fatto che Totolo Cicero Fosse anche lui Il reggente di Resuttana E questo equivoco Come Da cosa nasce E come viene risolto? Ma questo è la voce All'interno di Cosa Nostra Perché ci fu una riunione Non mi ricordo In che periodo Tra le famiglie Mafiose di Palermo E che Pensavano Di mettere a Totolo Cicero Sempre su Da punto di vista L'idea di Benetto Capizzi Che Totolo Cicero Era anche un soggetto Di esperienza Poi fu l'architetto A chiarire tutti questi aspetti Totolo Cicero Poi addirittura Si tirò indietro E quindi Neanche entra più in campo Da quel momento in poi Ora Fidanzati e Lo Cicero Gerarchicamente rispetto A Elo Piccolo Come si ponevano? Allora Ghetano e i fidanzati Non veniva considerato Elo Piccolo Perché diciamo che Michelo Piccolo Ha rapporti con Ghetano e i fidanzati Era Salvatore Genova E si occupava di Resuttana Quindi poi era Salvatore Genova Che era la persona Di fiducia di Elo Piccolo E quindi nel momento in cui Era in viso La Salvatore Genova Era in viso anche Elo Piccolo Totolo Cicero Si occupava dell'Arenel Fino al 2006 Fino al gennaio del 2008 Fino a quando c'era Salvatore Genova Che me lo disse personalmente a me Ed era uomo d'onore Ed era una persona Di fiducia anche dello piccolo C'è da dire che Lo piccolo mettevano sempre Persone o anziane O persone di loro fiducia Nel senso che mettevano Le persone che di fatto Facevano tutto quello Che dicevano loro Quello che era l'idea Di Benedetto Capizzi Alla fine Quindi Lo Cicero Aveva messo là All'Arenel Ma di fatto Era Salvatore Genova Sempre che faceva Lo condizionava E Se Liga L'architetto Liga Aveva una sua cassa E qual era? L'architetto Liga Aveva la La cassa di Tommaso Natale Gli arrivavano i soldi Di sfracavallo Palla vicino Perché Pippo Provenzano Era il suo braccio destro Quindi tutti i soldi Delle estorsioni Andavano all'architetto Giuseppe Liga Ah se ricorda dove lavorava A Bartolo Genova Al Charleston A Mondello All'Euro Yachting E quali detenuti Manteneva? Noi come famiglia Di Resuttana I fratelli Madonia Nicolo Di Trapani Pinuzzo Guastella Dotto Castiglione Tonino Cumbo Maurizio Spataro Con quali summe? Cioè per quale ammontare I fratelli Madonia E Nicolo Di Trapani Prendevano 1000 euro al mese Pinuzzo Guastella 5-600 euro al mese Totto Castiglione 800 euro al mese Tonino Cumbo 800 euro al mese Maurizio Spataro 800 euro al mese Più le spese dell'avvocato Ruta Sergio Giannuzza 600 euro al mese Più le spese dell'avvocato Ruta Gioacchino Morisca Detto Toto India 600 euro al mese Più le spese dell'avvocato Ruta In questo momento Non ne ricordo Altri Qualche domanda Anche da parte mia Presidente Grazie Allora signor Pasta Più lentamente Va bene Allora mi interessa Capire una cosa Intanto lei Prima ha riferito Che deteneva la cassa Di Resuttana Chi è che le ha dato Quest'incarico? Bartologeno Questo accordo Secondo il quale Appunto lei teneva la cassa Da cosa nasceva? Cioè perché Non decide Bartologeno Va di fare lui Sia il reggente Che tenere la cassa? Perché riteneva Che era una persona Molto meticolosa Pignola Aveva una buona memoria E si fidava di me E per una persona Di fiducia Di suo zio Salvatore Per darmi 150 mila euro In mano Ecco infatti Intanto Anche questa precisazione Questi soldi Questo denaro Le viene dato Da Salvatore Genova Quando lei Già aveva l'incarico Di tenere la cassa Di Resuttano O prima? No prima Settembre 2007 Era una persona Di fiducia Riservata Di Salvatore Genova Quindi lei Nel settembre 2007 Quando quindi ancora Neppure lo piccolo Sono stati catturati Esatto Lei non è uomo d'onore Assolutamente Non è ancora operativo Sulla famiglia Sul territorio di Resuttano Però ha questo rapporto Con Salvatore Genova Da cosa nasce Questo rapporto? Da Innanzitutto Nasce dall'amicizia Con il nipote Dal fatto che Giuseppe Lei ogni volta che mi parla Di parentere Mi deve aggiungere Bartolo Genova La figlia di Girolamo È il fratello di Salvatore Genova Perfetto Quindi io conosco Salvatore Genova Tramite il nipote Avevo già un bel rapporto Con il nipote Quindi con Bartolo Genova E poi si stava Un rapporto molto stretto Con Salvatore Genova Addirittura Frequento casa sua Periodicamente Sono andato a mangiare fuori Anche a pranzo Con sua moglie E mia moglie E quindi lui mi incomincia A dare delle confidenze Sue E quindi Mi occuperò anche Non soltanto C'era il fatto dei soldi C'era il fatto Mi devo occupare Alla latitanza C'era il fatto Del documento Poi lui scopre Che c'è una serie Di persone vicino a me Che sono in grado Di portare anche A termine Determinate cose All'interno di Cosa Nostra Chiaramente se Salvatore Genova Sarebbe stato fuori Fosse stato fuori Io poi sul territorio Di Resultana Sicuramente Avrei incominciato A operare Già Salvatore Genova Aveva fatto Qualche proposta Di essere inserito All'interno di Cosa Nostra Salvatore Genova Mi diceva Siccome sei una persona Intelligente Ti presenti bene Perché ti devi andare A bruciare sul territorio Con certe cose Ti tiene una persona Riservata Ed è una cosa migliore Per esempio Per la latitanza Io non posso andare Sul territorio E poi mi occupo Per la latitanza Quindi lui mi lo tenere Come una persona Di massima riservatezza Questo denaro Le è stato consegnato Prima dell'arresto Di Salvatore Genova Settembre 2007 Ed Salvatore Genova Le anticipò Che le avrebbe fatto Questa richiesta Le avrebbe consegnato Qualcosa Sì ma l'ha detto Guarda Siccome ho fiducia In te Sei un ragazzo in gamba C'è questa somma di denaro Che ufficialmente Non lo sa nessuno Non lo sappiamo io Tu mio nipote Che ha pure 80.000 euro E Totò Castiglione Non lo sa nessuno Mi raccomando Non lo dire a nessuno Pure perché Ho capito Che non lo devo fare sapere a nessuno Perché non lo doveva sapere nessuno In caso di mio arresto Mi succede qualche cosa Non si può sapere mai Nella vita Sappi che questi servono Per aiutare a mia moglie Quindi Il fatto che Salvatore Genova Le disse di non dire niente A nessuno Le ha lasciato presumere Che fossero soldi della cassa Sì Ma l'avevo detto prima Se ne evitiamo di ripetere Pure perché Salvatore Genova Era disoccupato Tra l'altro di questi Genova Non si parla Nelle imputazioni Tra l'altro Salvatore Genova Né nel contenuto Né nella contestazione originaria A tutti gli imputati Sì lo capisco Presidente Ma io una valutazione Sull'attendibilità Del collaboratore La devo fare Anche sentendo la sua storia Sicuramente Perché se una persona Che non è nessuno Si approfitta L'esigenza è questa Gestore della cassa Di un mandamento Se le sue domande Se le sue domande Hanno questa finalità Credo che abbia già risposto Abbondantemente Sotto questo profilo Quindi Anche perché Su questa consegna Dei 150 mila euro Ha già chiarito Due volte Delle ragioni Per le quali Le entro in possesso Di questa somma Va bene Presidente Mi verrà disoccupato Quindi per questo Ho pensato Che non faceva Nessuna attività lavorativa Va bene Poi mi serve Di sapere Un'altra cosa Come funziona Perché a un certo punto Lei e Bartolo Genova In considerazione Del fatto Che su Resuttana Comunque c'era Ufficialmente Un reggente Come ha detto lei Che era stato nominato A Benedetto Capizzi Com'è che voi Cominciate a pensare Di diventare Voi operativi Sul territorio Cioè Avevate ricevuto Un incarico Da qualcuno Oppure stavate Facendo di testa vostra No Posso Dico So che Evidentemente Dico anche se La domanda Dico è suggestiva Sicuramente L'imputato Il relato Non si lascia Suggestionare Il senso è Siccome Non ha mai detto Dico ufficialmente Perché No l'ha detto Ha ripetuto Più volte Che ufficialmente Era stato nominato Reggente Da Benedetto Capizzi Ufficialità Comunque Poi lo voglio Eh appunto Poi In sede di controesame Dicevo Avete ricevuto Un incarico Da qualcuno O vi siete improvvisati Voi a un certo punto Gestori Del territorio Di Resuttano Il giorno dopo Degli arresti Di Salvatore Genova Io mi sono visto Con Bartolo Genova Presse il Ciarlo Estrano di Mondello E insieme abbiamo pensato Ora che dobbiamo fare Dico c'è mio zio C'è tutto Castiglione Perché non portiamo avanti Questa barca Ne parlavamo Bartolo Genova E lui poi Nel giorno successivo Aspetti In questo momento Voi sapete Se c'è o meno Qualcuno Che è stato Nominato Reggente L'indomani Degli arresti Ancora non c'è Materialmente Nessuno Quindi lui Si incomincia A attivare Tramite Michele Di Trapani Tramite Maria Angela Di Trapani Successivamente Poi con Pinuzzolo Verde Quindi poi Incontrere l'architetto Noi incominciamo Intanto Ad avere il placet Di Maria Angela Di Trapani Poi abbiamo L'interessamento Di Michele Di Trapani E poi successivamente Quello di Pinuzzolo Verde In questo arco di tempo Però benedetto Capizzi Quindi siamo già Subito Fine gennaio Fine febbraio Nomina Gaetano Fidanzati Come reggente Di risultati C'è da dire Che l'architetto Ligami Che spunta subito Dopo qualche mese Si acclara All'interno di Cosa Nostra a Palermo C'è la sua figura Molti non lo conoscevano Ancora Era una persona Riservata Dello piccolo Ho capito Un'altra domanda In questo momento Cioè nel momento In cui lei E Bartolo Genova Decidete Di rendervi Disponibili E ottenete Poi come ha detto Anche il placet Ad altissimi livelli De Madonia Chi contattate Per sapere Quali Sapete già Quali sono I posti I negozi I cantieri Che pagano L'estorsione Che pagano il pizzo O contattate qualcuno Per farveli indicare Allora come ho detto prima Noi non avevamo niente In quel momento Perché non c'è rimasto niente Noi tramite il territorio Quindi tramite alcuni soggetti Che noi Siamo Tipo Mario Napoli Sergio Giannusa Gioacchino Morischi Perché sapevamo che erano Che erano dei soggetti Che portavano a termine L'estorsione Li andiamo chiamando Addirittura Ad esempio Mario Napoli Aveva dei soldi 7.000 euro 8.000 euro Che poi ci fece avere Che li aveva di sopra Io non so a chi darli Che vuol dire Li aveva di sopra Perché aveva portato a termine C'erano alcune attività Che pagavano mensilmente Quindi A gennaio per esempio Il mensile loro intanto Solo andavano a prendere Poi dice Appena ci sarà qualche soggetto Che noi Ci dicono che è il soggetto giusto Consegniamo questi soldi Ho capito Quindi siamo cominciati a fare dire A tutti questi soggetti Giacchino Morisca Giacchino Morisca Ha un soprannome Toto India Il fatto di chiamare anche Toto Palma Insomma Il suo è un estorsore puro Si occupa solo di estorsione Di estorsione E in questo momento Che voi contattate Maurizio Spataro O il rapporto con Maurizio Spataro Risale a un momento antecedente No Maurizio Spataro Già noi a questi Li contattiamo subito Perché li conosciamo Poi successivamente Giovanni Milano Mi presenta a me Unitamente a Sergio Giannusa Cioè presenta a me A Sergio Giannusa A Villa Sofia Maurizio Spataro E che cosa vi dice? Che lui è in grado di indicarvi I luoghi dove raccogliere le estorsioni? Molte cose di mettere a disposizione Voglio fare una precisazione Rispetto a prima Che Bartolo Genova Molte I soggetti che portavano a termine Le estorsioni Già li conosceva Non conosceva i posti Ma conosceva i soggetti Conosceva Mario Napoli Conosceva un altro soggetto Che ha piede libero Quindi noi li siamo andati chiamando E siamo fatti dire tutte le attività Dove loro andavano Noi abbiamo piano piano ricostruito Diciamo Il libro mastro Per quanto riguarda invece I suoi rapporti diretti Con Maurizio Spataro Maurizio Spataro Lei prima ha detto Era vicino a Gaetano Fidanzati Si conosceva molto bene Infatti noi lo mandavamo Sul territorio Per prendere le confienze Da Gaetano Fidanzati Che vuol dire? Lei ha detto prima Di stare attento Qual era il ruolo? Cioè che cosa doveva fare Maurizio Spataro? Noi lo chiamavamo la cucchia di tutte le pignate Nel senso che lo conoscevano tutti Era ben voluto E quindi Gaetano Fidanzati Era molto leggero nel parlare Gli raccontava Magari il fatto che si vedeva Con Benedetto Capizzi Il fatto che lui Chi si vedeva con Benedetto Capizzi? Gaetano Fidanzati E quindi dava tutte le confidenze Sull'attività che lui stava Incominciando a portare avanti Perché lui inizialmente Gaetano Fidanzati Ancora non sa Maurizio Spataro Che si è avvicinato a Resuttane Quindi fa una specie di doppio gioco Maurizio Spataro Ci fa il porto e il rapporto Questa cosa è molto importante Soffermiamoci proprio su questo punto Che cosa in particolare Le ha riferito Maurizio Spataro A proposito di Gaetano Fidanzati Cioè se hanno mai Intanto di questo fatto della reggenza Ne ha mai parlato Gaetano Fidanzati con Maurizio Spataro? Le faccio sempre una precisazione Che Bartolo Genova Anche se gli fu presentato Cioè Maurizio Spataro Si avvicinò a Resuttana Su Maurizio Spataro Bartolo Genova aveva una grande opinione Perché Salvatore Genova ai tempi C'è lo zio di Bartolo Genova L'aveva escluso dalla famiglia di Resuttano Siccome fu sponsorizzato Da Pienuzzolo Verde Che era vicino all'architetto Era sponsorizzato Da Tannino Lopresti Da tanti soggetti di Cosa Nostra No no Tannino Lopresti Diceva ad esempio Per l'interazione a me Tramite Maurizio Spataro Pienuzzolo Verde Maurizio Spataro è un bravo ragazzo Michele Di Trapani Fratello di Diego È un bravo ragazzo Mettetelo vicino Michele Di Trapani È parente dei Madonia Sì So che sono cugini Non so Tramite di Maurizio Di Trapani Allora a quel punto lui dice Mettiamocelo vicino Però a questo Maurizio Spataro Non facciamoci tante confianze Tant'è vero che Maurizio Spataro Inizialmente si convince pure lui Che è Gatano Fidanzato Il reggente di Resuttana Mi spiego Anche Maurizio Spataro Si convince che Gaetano Lopresti Perché lui si vede Con Gaetano Lopresti Gaetano Lopresti Mi hanno messo a Resuttana No Gaetano Lopresti Gaetano Fidanzati Mi scusi Lei parli lentamente Perché se no magari Gaetano Fidanzati E quindi gli disse Quindi Gaetano Fidanzati Fa ufficialmente Per quanto lei viene a sapere Fa la confidenza A Spataro Per lui il reggente di Resuttana Oh E dice anche chi l'ha messo reggente Benedetto Capizzi E Maurizio Spataro Le riferisce poi questa cosa A me e a Bartologeno Voi e lei Che cosa dice Quando Maurizio Spataro Le dice questo Cioè Fa finta di niente Come reagisce Di fronte a questa confidenza Che le fa Maurizio Spataro In quell'occasione Le parlava a Bartologeno E dice Vabbè se ti ha detto lui così Vuol dire che Uno è pazzo E il responsabile Di quello che dice Gli tagliamo il discorso Poi lui si vedrà Con Pionuzzolo Verde Lui chi? Bartologeno E poi con Pionuzzolo Verde E l'architettorica Si vedranno al Charleston Dove chiariranno Questa situazione Come lo sa collocare Il periodo in cui Definiscono e chiariscono Questa situazione Sì sempre Il primo semestre del 2008 Poi un altro punto Che sono i mesi Diciamo di confusione Dopo tutti gli arresti Maurizio Spataro Si mette a disposizione Sia vostra Sia Di Gaetano Fidanzati Per quanto è a sua conoscenza A disposizione nostra Si ci mette Sicuramente Perché poi incomincia A fare pure l'estorsione E porta personalmente A me anche i soldi Con Gaetano Fidanzati Ci vedeva spesso Si vedevano spesso Ma pure perché L'hanno detto A quel punto di vista Stai vicino anche Allo zio Tanino Però noi lo filavamo A Maurizio Spataro Che vuol dire Lo filavamo Nel senso che Noi gli facevamo fare Gli davamo dei compiti Senza sapere che Lui faceva il portare A portare a noi E quindi lui sta Quello che poi abbiamo fatto Con Sergio Giannusa Però senza filarlo Perché a Sergio Giannusa Gli davamo fiducia Di stare sul territorio E controllare l'attività Che svolgevano Questi soggetti vicino a Gaetano Fidanzati Perché poi a luglio Nel 2008 Poi tra l'altro Mi hanno dato in arresto Poi a Maurizio Spataro Ho capito Un'altra domanda E poi ho finito Invece per quanto riguarda Lo Cicero Sa se Maurizio Spataro Conoscesse Salvatore Lo Cicero Frequentasse Salvatore Lo Cicero Si lo conosceva Totò Lo Cicero Maurizio Spataro Conosceva quasi tutti Per l'interno di Cosa Nostra E di Totò Lo Cicero Le disse mai niente Maurizio Spataro No Pure lui sapeva Che era un uomo d'onore E che era una persona storica All'interno di Cosa Nostra Però diciamo che Noi scherziamo sul fatto Che era vecchio Neanche poteva camminare Insomma A un incontro con Bartolo Genova Totò Lo Cicero Insieme a un soggetto Che ha peda libero Gli squillo il telefonino Bartolo Genova si alzò E sta ne andando Per farle comprendere Diciamo il soggetto Gli squillo il telefonino E rimase Fine a risata Nel senso No Deve spiegare queste cose Perché Adesso noi Magari un po' Di Cosa Nostra Ne capiamo Però un domani Queste cose vanno Ci sfuna un appuntamento Mi sembra il porticcio Che vuol dire Che diventa una cosa comica Il fatto che squilla Comica ma anche grave Che sia lui Che il soggetto Che era con lui Era vicino a Totò Lo Cicero Una persona sua Che è a piede libero Gli squillano prima uno E poi l'altro Il telefonino Mentre c'è la riunione Con chi? Con Bartolo Genova E altri soggetti Che sono a piede libero E perché fa una riunione Salvatore Lo Cicero Con Bartolo Genova E questi altri soggetti Che sono a piede libero Perché Totò Lo Cicero Era un soggetto Che poteva occuparsi All'Arenella Sotto la nostra egemonia Però di Resuttana Però lui con quella problematica Che poi esporrà Del fatto che c'è il sequestro De Benincorsi E' anziano Si spaventa di perdere tutto Di non mettersi in prima linea Fa due passi indietro Ho capito Poi un'ultima domanda Lei prima Con riferimento All'incontro Fra Gioacchino Corso E Bartolo Genova E' l'altro soggetto Che è ancora a piede libero Quello che avvenne Praticamente dopo L'appuntamento Con Gianni Nicchi Lei ha detto Che La frase Detta da Gioacchino Corso Dice Pippo Una persona per bene In altri tempi Sarebbe finita Diversamente L'avevamo risolta con la corda A quali altri tempi Si riferiva A tempi ero piccoli Perché ad esempio Inocorso E' anche Andrea Quattrosi Per loro Si doveva provvedere In un'altra maniera Invece L'architetto Ligo L'ha pensato in maniera diversa Ho capito Va bene Non ci sono per ora Altre domande Presidente Neanche per quanto riguarda I reati fine No Neanche per quanto riguarda I reati fine Non è a conoscenza Il collaboratore La parte civile Deve fare domande Presidente Il verbale acquisito Oggi Dell'udenza del 6 di maggio Contiene tutta una serie Di domande Sui commercianti storti Sul numero dei commercianti Sulle cifre pagate Sulla cassa Tutto quanto Quindi Sono domande Che sarebbero inutili Perché già sono state Allora In infezione degli imputati Devono fare domande Posso fare una pausa Certo 10 minuti Sono sufficienti Tutto Grazie.